In 200 da Prato a Roma la manifestazione mai più fascismo in città, la sfida è il Sicobas contro lo sfruttamento nel distretto. Stop a mercato coperto di via Giordano, la sperimentazione con terra di Prato è già finita. 700 anni di San Nicolò nel 2022, previsti lavori di ristrutturazione del noviziato del conservatorio. Tornare alla musica, la camerata strumentale città di Prato presenta la nuova stagione concertistica. Il Prato non va oltre lo 0-0 contro il Seravezza e scatta il Dastro per due tifosi. Ben trovati a questa edizione della sera del nostro Tg. Sono stati 200 circa i manifestanti partiti da Prato per partecipare all'iniziativa Mai più fascismi, il sito nazionale dei sindacati in piazza San Giovanni a Roma, in segno di solidarietà alla CGL, la cui sede è stata devastata una settimana fa dall'attacco squadrista di un gruppo di estrema destra infiltratosi nel corteo No Green Pass. Quattro i pullman partiti da Prato assieme al segretario provinciale della CGL Lorenzo Pancini e ad un'ampia delegazione del sindacato. C'erano il sindaco Biffoni, gli assessori squittieri e Santi, la presidente dell'Ampi Angela Riviello e il capogruppo del PD Marco Sapia, un gruppo dei giovani democratici oltre a semplici cittadini iscritti all'Ampi. È stata una grande testimonianza della voglia di partecipare dai ragazzi alle persone più anziane e di ribadire i principi democratici a fondamento della nostra Costituzione e del nostro Paese, afferma il segretario della CGL Lorenzo Pancini. Prato è presente così come altri comuni toscani e la regione toscana, afferma il sindaco Matteo Biffoni, perché le intimidazioni e le aggressioni alle organizzazioni sindacali sono un attacco alla democrazia che respingiamo con fermezza. In Trecento hanno manifestato questo pomeriggio per le strade del Macrolotto 2 per esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori aggrediti davanti al pronto moda cinese Dreamland. E il sindacato Sicobas attacca le istituzioni, ancora una volta assenti. Vediamo. Buttiamo via la paura, uniti contro mafia e sfruttamento. Esponendo questo striscione accompagnato da bandiere fumogeni, si è svolto questo pomeriggio il corteo promosso dal sindacato Sicobas lungo le strade del Macrolotto 2. A partecipare circa 300 persone, fra lavoratori, sindacalisti e movimenti di sinistra, tutti uniti per ribadire la necessità di garantire diritti e dignità agli operai. La manifestazione è stata organizzata a seguito dei violenti scontri davanti alla Dreamland, pronto moda cinese di Via Galvani, episodio su cui sono in corso le indagini della Procura e nel quale sono rimasti feriti quattro manifestanti pakistani, di cui uno in modo grave. Noi volevamo dare un messaggio a tutta questa città. Quello che è accaduto a lunedì era il rischio di morire qualcuno, perché quella violenza che hanno fatto a loro è picchiato... erano quasi 15 contro 5-6 persone. c'era una cosa molto bruttissima, era pericolosissima, che quattro persone erano finite in ospedale. Quella persona che lavorava qui in questa azienda ha perso la conoscenza per quasi nove ore. Quindi noi questa cosa non vogliamo vedere più. Alla manifestazione non hanno preso parte le autorità politiche cittadine. Il sindaco Matteo Biffoni già ieri aveva annunciato la propria partecipazione alla manifestazione Mai Più Fascismi, convocata da CGL Cislewil in piazza San Giovanni a Roma in seguito all'assalto alla sede nazionale della CGL. Ma il sindacato Sicobas non ci sta. I lavoratori da Texprint hanno chiesto per nove mesi al sindaco di venire a ascoltarli dai cancelli. Siamo andati in piazza del comune all'inizio settembre e abbiamo ricevuto uno sgombero. In quel momento il sindaco parlava di noi e dei lavoratori come il problema di ordine pubblico di questa città. Io penso che questa vicenda abbia mostrato a tutta la città qualcosa che forse era già evidente. Cioè che il problema di Prato è lo sfruttamento. Il problema di Prato non sono i lavoratori che scioperano. E le istituzioni continuano a perdere occasioni di venire a parlare con questi lavoratori e a scoprire che dietro a questi proclami, a questi numeri dove si sbandierano i numeri dei controlli, delle sanzioni, delle sospensioni di attività, c'è una realtà che ci racconta che il giorno dopo è tutto uguale all'interno di queste aziende. Stop al mercato coperto di Via Giordano. La sperimentazione con terra di Prato è già finita. I consiglieri leghisti Spada e Curcio parlano di clamoroso flop del comune. L'assessore Squittieri ribatte. Rilanceremo lo spazio con la fabbrica dell'aria ed il bistro. Sentiamo. È terminata con due mesi e mezzo di anticipo la presenza di terra di Prato al nuovo mercato coperto di Via Giordano al Macrolotto Zero negli spazi concessi gratuitamente dal comune. La sperimentazione, avviata lo scorso maggio, avrebbe dovuto continuare fino al prossimo 31 dicembre con altri 22 mercati due volte alla settimana. Da oggi invece lo spazio commerciale di 900 metri quadri al coperto realizzato dal comune nell'ex fabbrica Forti ristrutturata con lavori costati un milione di euro sarà aperto soltanto occasionalmente per ospitare iniziative culturali e innovative nei fine settimana come comunica il comune. Abbiamo provato 5-6 mesi e alla fine abbiamo visto che la formula così come concepita inizialmente non funzionava tantissimo e che per noi era un'attività difficilmente sostenibile così, d'accordo con il comune, proviamo a cambiare spiega Jacopo Minuzzo del mercato terra di Prato. Dal 1 gennaio prossimo inizierà una nuova fase con l'affidamento dei lavori per la realizzazione della fabbrica dell'aria un sistema per rimuovere gli inquinanti in atmosfera attraverso le piante attraverso la nuova facciata e il bistrò interno entrambi immersi nel verde. Sulla questione intervengono i consiglieri della Lega Daniele Spada e Marco Curcio i quali accusano il comune di non aver saputo sostenere e promuovere adeguatamente il mercato coperto. Il comune ha investito milioni di euro in questo progetto divenuto in breve tempo un clamoroso flop perché è fuori contesto e isolato rispetto al resto di un quartiere molto problematico. È questa la posizione di Curcio e Spada che hanno presentato un'interrogazione sollevando perplessità sull'annuncio dell'avvio dei lavori a gennaio. L'assessore Benedetta Squittieri getta acqua sul fuoco ed è convinta che il mercato coperto nell'ex Forti possa in futuro avere un appeal maggiore quando i lavori saranno completati e sarà pubblicato il bando per la gestione dello spazio che avrà anche una parte minoritaria legata alla somministrazione. Quando nacque il mercato di filiera corta a terra di prato in piazza del mercato nuovo ci sono avvoluti anni e costanti politiche di sostegno di comune e regione prima che il progetto decollasse aggiunge Squittieri. La diocesi di Prato ha iniziato il cammino sinodale insieme alla Chiesa Universale con una messa preseduta dal Vescovo Giovanni Nerbini e concelebrata dai sacerdoti pratesi questa mattina nella Chiesa di San Domenico ha preso il via ufficialmente anche a Prato il sinodo che si svolge per la prima volta in modalità decentrata. Dal mese di ottobre fino ad aprile 2022 si tiene la fase diocesana nella quale le parrocchie sono chiamate a dare il loro contributo su come stanno vivendo nelle singole realtà i tre verbi del sinodo incontrare ascoltare e discernere. Si sono concluse ieri con un pomeriggio di studio le iniziative per il settecentenario della morte del cardinale Niccolò nel prossimo futuro del conservatorio c'è la ristrutturazione dell'ala del noviziato che dovrebbe partire entro l'estate del 2022 per ospitare la nuova sede del liceo e della materna. Dono è stata questa la parola al centro delle tante iniziative pensate per celebrare il settecentenario della morte del cardinal Niccolò dalla cui donazione ha preso il via la lunga storia di quello che è oggi il conservatorio San Niccolò iniziative a cui appunto è stato dato il titolo San Niccolò un dono lungo settecento anni che si sono concluse ieri con un pomeriggio di studio durante il quale si è approfondita la figura del cardinal Niccolò e il contesto storico economico ed ecclesiale in cui si scrive la sua vicenda umana. Le iniziative sono state tantissime da incontri visite guidate video concorso fotografico e letterario tante iniziative fatte anche con i nostri alunni oggi concludiamo con questo convegno scientifico direi che il bilancio è molto positivo pur se evidentemente depotenziato dal covid c'è una parola che abbiamo voluto mettere in testa a questo centenario dono San Niccolò è nato da un dono io che non sono d'origine pratese ma ormai mi sento in tutte le fibre dell'animo pratese mi ha molto colpito la riscoperta di questa città come una città in cui è così evidente quella cultura del dono che in fondo ha fatto grande l'Italia un anniversario importante che però non si conclude qui il settecentenario infatti terminerà in realtà con un nuovo inizio la ristrutturazione di un'ala del complesso quella del noviziato il bilancio è sicuramente positivo è stata un'annata piena di iniziative che ha messo San Niccolò al centro della città di Prato e le sfide future sono ancora più importanti a partire dal restauro dell'ala del noviziato che speriamo di poter iniziare il prossimo anno per dare alla scuola ambienti più consoni più belli più accoglienti dei ragazzi il progetto è in fase d'esame alla sovrintendenza ma insomma speriamo prima della prossima estate di poter vedere i ponteggi salvataggio speciale per la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo chiamati questo pomeriggio poco dopo le 16 per liberare un giovane capriolo rimasto impigliato tra i rovi in prossimità del sentiero del cai numero 42 in località San Leonardo l'animale dopo essere stato liberato è stato affidato al personale veterinario della ASL poiché presentava delle ferite procurate probabilmente nel tentativo di uscire da quella scomoda situazione tornare alla musica la camerata strumentale città di Prato presenta la nuova stagione concertistica dal 17 novembre i concerti al teatro Politeama che potrà tornare a piena capienza di spettatori vediamo tornare alla musica tornare alla bellezza dopo il buio della pandemia la camerata strumentale città di Prato si prepara a calcare il palcoscenico del teatro Politeama Pratese che ospiterà la nuova stagione tanti gli appuntamenti in programma alcuni recuperati dalla stagione 2020-2021 ma con un unico tema forte lo sguardo avanti concerto inaugurale fissato per il 17 di novembre la direzione affidata al maestro Jonathan Webb al pianoforte Pietro De Maria ancora tutto normale non è se anche la parola normale forse bisognerebbe usarlo un po' meglio comunque rincominciare un percorso rincominciare una strada che ci deve portare nel luogo della felicità sì questo è quello che dobbiamo fare si sa benissimo che la musica ha bisogno di vivere in teatro di vivere nel luogo dove si fa tutto il resto è riproduzione è musica però con la M minuscola una stagione ricca tanti appuntamenti che potremo ascoltare appunto dal vivo intanto ascoltiamo la nostra orchestra che è il protagonista assoluto della stagione è il suo direttore musicale che è l'interprete più presente cioè Jonathan Webb che ormai è un beniamino di questa città direi un pratese d'adozione così come pratese d'adozione è il protagonista dei due concerti inaugurali perché abbiamo una doppia inaugurazione con i cinque concerti per pianoforte orchestra di Beethoven Pietro De Maria sarà l'interprete unico di tutti e cinque i concerti che insieme a Jonathan Webb insieme alla camerata aprirà la stagione con due concerti dedicati appunto a Beethoven poi avremo un giovane direttore dell'orchestra italiano a gennaio che in San Francesco dirigerà un programma monografico dedicato a Bach poi abbiamo una violinista si è un Kim che è coreana d'origine berlinese da adozione che interpreterà il secondo concerto di Prokofiev un grande capolavoro che ancora non abbiamo mai eseguito con la camerata il nostro più di vent'anni di attività e poi finiremo la stagione con quel progetto che abbiamo dovuto per forza di cose rimandare tante volte cioè l'Orfeo Euridice di Gluck un'opera in forma di concerto piena di simboli delle sette vite al limite di altrettanti straordinari artisti si è parlato oggi pomeriggio a Palazzo Pretorio nel terzo appuntamento del ciclo Tutta colpa dell'arte promosso dal Museo e da TV Prato ospite dell'incontro di oggi era il critico d'arte Andrea Baffoni autore del saggio Dannati Romantici sette vite al limite ma anche sette artisti straordinari sono quelli raccontati nel saggio Dannati Romantici del critico d'arte Andrea Baffoni ospite a Palazzo Pretorio all'interno della rassegna Tutta colpa dell'arte organizzata in collaborazione con TV Prato Andrea Baffoni in dialogo con il giornalista del Tirreno Paolo Toccafondi ha portato il pubblico alla scoperta delle vite tormentate di Jericho Van Gogh Peliccia da Volpedo De Stal Modigliani Rotko e Ligabue sette artisti molto diversi tra loro anche visivamente cos'è che li accomuna? C'è un filo conduttore che è legato a un concetto cioè la lotta con la parte interiore il demone come metafora demone come tormento interiore come spinta irrefrenabile talvolta folle che spinge l'artista in certi casi a superare se stesso e a agire fuori dalle logiche quindi in una battaglia fra ragione e sentimento dove però nel caso dei romantici è sempre il sentimento che prevale i nuovi romantici chi sono? Potrebbero essere anche gli esploratori dello spazio i fisici che stanno al CERN di Ginevra a studiare qualche cosa che non sanno nemmeno loro i nuovi romantici sono quelli che esplorano le nuove tecnologie e che sognano di andare su Marte appunto e sono quelli che ci andranno forse non così presto come immaginiamo noi e la conversazione al pretorio tra il giornalista Paolo Toccafondi ed il critico d'arte Andrea Baffoni sarà trasmessa integralmente da TV Prato che promuove assieme al museo il ciclo tutta colpa dell'arte domani sera alle 21.40 su canale 74 la pubblica assistenza all'avvenire dà vita al gruppo Diamante volontari al servizio degli altri ma si cercano anche uomini disposti a dare una mano vediamo insieme conta già 20 volontarie quasi tutte attive il nuovo gruppo Diamante della pubblica assistenza all'avvenire di Prato si tratta della rinascita di quello che in passato è stato il gruppo femminile e che oggi si apre alla partecipazione anche degli uomini Diamante è un termine innanzitutto neutro perché noi accoglieremo all'interno del gruppo anche uomini che desidereranno condividere i nostri obiettivi e poi Diamante perché riflette un po' quello che è l'animo delle donne brillante poliedrico che si diversifica in ogni occasione alcune volontarie erano presenti in precedenza nel gruppo femminile altre svolgono già attività di volontariato in altre associazioni gli interventi principali del gruppo Diamante si concentreranno in particolare nella consegna di pasti caldi e sul fronte del volontariato sociale hanno fatto delle cose molto belle nel passato poi il tempo passa anche per i nostri volontari e piano piano è andato a estinguersi ora una nostra collega la dottoressa Elisabetta Gioni si è occupata di ricostituire questo gruppo di riportarlo alle glorie del passato e quindi fare delle operazioni di volontariato puro a favore delle persone più indigenti come consegna di pasti ai più anziani a chi vive da sola a chi non può provvedere da sola eccetera e da ieri presso la sede centrale della pubblica assistenza all'avvenire in via San Jacopo è stato attivato il servizio a pagamento di tamponi rapidi con rilascio del green pass nei giorni da lunedì al venerdì dalle ore 17 e 30 alle ore 20 il servizio è effettuato dalla cooperativa sociale a venire previa prenotazione lo sport toscano riparte è il convegno organizzato da UISET l'Unione Italiana Sport e Turismo al quale ha partecipato il presidente del CONI Giovanni Malago ascolto dei territori sostegni alle società sportive e programmazione di iniziative condivise sono state le richieste avanzate alle istituzioni dai partecipanti sentiamo sport turismo promozione del territorio ma anche sostegni economici alle società e investimenti negli impianti sono solo alcuni dei temi al centro del convegno lo sport toscano riparte organizzato alle oblate da UISET l'Unione Italiana Sport e Turismo che ha la propria anima fra Prato e Firenze visto che presidente e vice sono Salvatore Conte e Sandro Tacconi all'iniziativa hanno partecipato fra gli altri anche il presidente del CONI Giovanni Malagò il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni e il presidente della regione Eugenio Gianni Malagò si è soffermato sul tema dei finanziamenti governativi alle società sportive mentre Gianni ha ricordato gli stanziamenti regionali nel bilancio 2021 per il rinnovamento degli impianti lo stanno aspettando tutti i presidenti dell'SD soprattutto di alcuni settori quello degli impianti natatori in modo particolare perché molte SD fanno fatica a riaprire qualcuno non ha riaperto un paese veramente voluto come oggi noi vogliamo essere deve avere l'elemento fondante dello sport e si deve riconoscere nello sport ed è per questo che penso che lo sport merita il massimo di rispetto ma anche dei diritti io ho voluto nel bilancio del 2021 triplicare portandolo a più di 10 milioni il bilancio dello sport che si riferisce agli impianti sportivi infatti proprio in questi giorni il bando è aperto e ne godranno con un limite dei 400 mila euro tutte le società sportive che sono gestori di impianti sportivi comunali quindi sarà una bella boccata d'ossigeno per la manutenzione degli impianti sportivi altro tema è quello della fiscalità e degli sgravi sulle utenze qui è in campo l'impegno del lanci adesso stiamo provando in tutti i modi a capire se ci sono attraverso sia lanci nazionale cioè quella regionale toscana se c'è la possibilità di venire incontro dal punto di vista fiscale oppure dal punto di vista della tariffazione delle bollette se c'è possibilità di dare un ulteriore sostegno alle società chiarezza negli strumenti programmazione complessiva e ascolto dei territori sono state invece le richieste dell'UISET chiediamo di a questo punto veramente di creare i presupposti perché ci sia veramente una condivisione della conoscenza ma una condivisione della normativa per mettere tutti sullo stesso nastro di partenza e per rendere possibile una come dire lo sfruttamento delle opportunità in maniera uguale sia dalle piccole società che dalle grandi società noi speriamo veramente che questo momento di riflessione sia un momento di forte ripartenza perché c'è bisogno di costruire una nuova progettualità un lavoro di programmazione lungo condiviso fra i tanti soggetti istituzionali del mondo sportivo e lo stesso territorio con tutte le figure che ci sono e che lavorano in questo mondo dello sport che rende felice molte famiglie molti cittadini con un grande lavoro di inclusione che in questo momento è importante il questore di Firenze ha emesso d'aspo di 3 e 8 anni per due tifosi del Prato protagonisti di comportamenti aggressivi ed offensivi nei confronti degli ultras del Carpi fuori dallo stadio di Sesto Fiorentino dopo l'incontro di calcio del 6 ottobre Prato-Carpi l'episodio è successo mentre c'era il deflusso della tifoseria ospite due tifosi del Prato si sono avvicinati con modi aggressivi ed offensivi in vendono i confronti di un gruppetto di circa 25 ultras del Carpi cercando in ogni modo il contatto fisico la polizia si è schierata tra le due opposte fazioni impedendo il contatto ed identificando i responsabili del gesto si tratta di un uomo di 56 anni e di uno di 57 entrambi residenti a Prato nei cui confronti è scattato il daspo tre anni sono andati al 56enne mentre al 57enne già destinatario di un passato di un daspo sono stati irrogati otto anni questo secondo tifoso è stato anche denunciato per minacce e resistenza pubblico ufficiale per aver scalciato strattonato e minacciato i poliziotti finisce a reti inviolate il derby Prato Seravezza nel primo tempo meglio i versiliesi che hanno anche colpito un palo nel secondo tempo lanieri più pericolosi con il gol sfiorato da Alexic ma vediamo le immagini della partita nel servizio del nostro Massimiliano Masi finisce in parità 0 a 0 l'anticipo Prato Seravezza Pozzi valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D Gironedì alla Piero Torrini di Sesto Fiorentino di fronte a 600 spettatori le due squadre si sono date battaglia senza riuscire a superarsi nel primo tempo meglio il Seravezza l'ex Benedetti mette paura al Prato colpendo un clamoroso palo mentre sempre i versiliesi con Podestà prima e Diana successivamente non riescono a perforare la difesa laniera il Prato nel primo tempo soffre e si limita a difendersi nel primo tempo forse noi quando abbiamo fatto meglio abbiamo avuto più occasioni da gol loro nel secondo tempo hanno fatto più possesso noi siamo stati ordinati però se andiamo a vedere le occasioni proprio nitide da gol io sa che sono un po' di parte però me ne ricordo più dalla mia parte che dalla loro però è una partita che tutte e due le squadre comunque volevano vincere nella ripresa la musica cambia il tecnico del Prato Marco Amelia rivoluziona la squadra con un triplo cambio mentre il Seravezza cala vistosamente dal punto di vista fisico è il Prato a fare la partita Renzi mostra subito il biglietto da visita mentre Bellucci riscarga i guantoni al Lago Marsini siamo stati un po' troppo contratti abbiamo giocato poco quel poco abbiamo anche fatto gli errori tecnici importanti e aggredevamo anche poco quando si perdeva la palla quindi loro ci hanno un po' messo in difficoltà poi abbiamo preso le misure ho cambiato qualcosa dall'inizio del secondo tempo e siamo andati meglio abbiamo rischiato praticamente zero e potevamo anche far gol con Bojan ma nel finale di partita le occasioni più ghiotte sono di marca pratese prima dorsi con un siluro terra area fuori di poco e nel finale con Alexic che si divora alla possibile rete del vantaggio Laniero finisce 0 a 0 con un tempo a testa meglio il Seravezza nel primo meglio il Prato nel secondo per la serie pari e patta e vi ricordiamo che la telecronaca di Prato Seravezza andrà in onda stasera alle 21 e 30 su questo canale di replica domani alle 16 e 15 bene adesso è il momento di scoprire insieme gli appuntamenti previsti per domani a Prato ed intorni con la nostra agenda domani domenica 17 ottobre dalle 8 alle 19 in piazza San Francesco mercato straordinario a cura di cislambulanti dalle 9 e 30 alle 19 in piazza Mercatale mercatale Viva mercatino di oggetti di seconda mano abiti e accessori vintage dalle 10 alle 20 in piazza Duomo un prato di cioccolato mostra mercato dedicata al cioccolato con degustazioni in laboratorio e dimostrazioni dal vivo dalle 10 alle 19 a Carmignano in piazza Vittorio Emanuele II e in piazza Matteotti benvenuto Fico Secco apertura ufficiale della vendita dei fichi setchi prodotti nel 2021 mercato dei prodotti agricoli e dei presidi Slow Food e iniziative varie dalle 12 a mezzanotte in via Santa Trinita l'isola di Santa Trinita musica animazione per bambini e prodotti somministrati dai commercianti della strada alle ore 15 a Bacchereto festa della Castagna con stand gastronomici a cura della Polisportiva Bacchereto alle ore 16 al Teatro Politeama Colors spettacolo di danza e teatro interattivo per bambini e famiglie a cura della compagnia TPO in coproduzione con il Teatro Metastasio e infine alle ore 17.30 al Teatro Borsi Artemente in concerto doppio concerto per la rassegna agli amici del Borsi omaggio ai Pink Floyd e per questa sera termina il nostro TG vi lasciamo al Vangelo della domenica cura di Suor Federica Tassi delle figlie dell'oratorio a seguire la telecronaca della partita di calcio Prato Sera Vaz come abbiamo già ricordato a tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato arrivederci Massimo Grazie a tutti.